settimana oh che bello qua mi dà un bacio l'amore il compleanno di michelino amore compratelo per vedere tutto e leggere tutto il tv oh che bello questo cos'è il quadretto con l'elefante che felicità e poi quante cose abbiamo tutti gli accessori guardate che belle tele tutti gli accessori tappeto sichissimo abiti le menzole wow la treccia per il letto l'orsetto e il tappeto orsetto col cuscino abbiamo tutti gli accessori per la camera di mickey ma è un bimbo grande e quindi deve avere la cameretta dei bimbi grandi e stiamo facendo la cameretta nuova di questo bimbo abbiamo preso tutti gli accessori alla casa del bebè poi vedrete tutto montato ah vabbè non vedo loro sarà una super cameretta ma che felicità sono più felice io che mio figlio praticamente allora è iniziato la mattinata alla grande ricevendo il pacco dei miei amici di ringstore ragazzi allora trovate tutti articoli super super griffati super firmati tutte le marche più top sono tutti originali con cartellino e tutto a prezzi super super wow adesso vi faccio vedere cosa ho ricevuto non vedo l'ora pazzesca maglietta di the square vedete con cartellino bustina cioè tutto originale la maglietta di gmc anche questa vedete prezzo cartellino tutto super originale andate a vedere nelle loro storie tutte le offerte ringstore perché ci sono delle cose pazzesche ok io adesso le apro vorrei vedere sto troppo curiosa uh mi cade tutto no vabbè ma la adesso vediamo anche quella di the square che io adoro cioè giro in share the square sono dei brand che più adoro non so voi no vabbè wow quindi veramente andate a vedere nelle storie vi metto il tag e lo fai e beh beccati cioè in pieno proprio direi amore sul nuovo tv di questa settimana le nostre prime foto together cioè adoro vogliamo tenerlo riservato per un po ci siamo riusciti ma alla fine ci hanno beccato quindi andate in edicola nuovo tv per leggere la mia e quindi vi sa non si 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 non